Tivoli Villa d'Este, vista dei giardini, piazza San Pietro, dopo tanti anni, eccola, il gruppo non ve lo faccio vedere perché, tutti vecchi. Vista dalla Basilica. La Basilica di San Pietro. Pietà del Michelangelo. La Basilica di San Pietro. La Basilica di San Pietro. Cortile Ottagono, Musei Vaticani Sala di Costantino, prima della Cappella Sistina Il passaggio da San Pietro, quando il Papa doveva scappare, passava sopra questo coso qui e scappava dentro Castel Sardegna Piazza Navona, Fontana del Tritone Panteon Fontana di Trevi Piazza del Popolo Trastevere di sera Che cos'è? C'è bisogno di dire che cos'è questo? Musè di Michelangelo Via dei Fori Imperiali Piazza del Campidoglio Piazza del Campidoglio Dove sta questa la sindaca di Roma Come tutti i viaggi troviamo la sposa Anche a Roma non si smentisce Altare della Patria Colonna Traiano Poi adesso sopra c'è San Pietro Stessa storia Mercati Traiani Centro commerciale di allora San Paolo fuori le mura San Paolo fuori le mura Piazza interno Queste sono le foto di tutti i papi di tutta la storia Dopo c'è Papa Francesco che è illuminato perché il Papa in carica Questi sono gli altri e quello in carica è Papa Francesco E qui c'è il posto per quelli nuovi Piazza Navona Piazza di sera Sera Angelo Domine E l'ossia Ave Maria E concedi i vestiti di un santo Ave Maria che si appena allo di nostre con me Benavita te mulieri Questa benaventura Fruttumare dentro Iesu Santa Maria Maria che mora con nobis peccatoribus, non che ti non ha morti, sostri e fattati. Ece Agilla Domino. E al mio secondo vero. Ave Maria, grazie a te, la Domina del Tecum, ben rita te, ben rito fruttumente e tu ieri.